Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Darwin Macis e di Felipe Viseu. Oggi a presentarli c'è il direttore generale Franco Collavino a cui cedo subito la parola. Bene, buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza. Benvenuti alla prima di queste conferenze stampa di presentazione che faremo questa settimana durante la quale vi presenteremo un po' tutti i volti nuovi dell'Udinese relativi agli acquisti fatti in questa ultima sessione di mercato. Comincerò io oggi con la presentazione di Darwin Macis e di Felipe Viseu, poi continuerà domani il direttore Pradè con la presentazione di Teravest, Econg e Nicolas e poi venerdì sempre il direttore Pradè per la presentazione di D'Alessandro, Opoku e Teodorci. Avete già avuto modo di vederli all'opera, di incontrarli, questo che si è appena concluso è stato un mercato senz'altro complicato, oneroso all'interno del quale abbiamo veramente fatto degli investimenti importanti e in bianco nero sono arrivati molti giocatori, giocatori maturi ma anche giocatori giovani di prospettiva. Qui a fianco a me oggi abbiamo Darwin Macis e Felipe Viseu, due sudamericani, due attaccanti che abbiamo appunto scelto per il nuovo corso dell'Udinese. Cominciando da Macis avete già avuto modo di vederlo all'opera anche di recente, è un giocatore venezuelano che è già da qualche anno in Spagna e quindi ha già avuto modo di acclimatarsi con quelli che sono i campionati europei. È un giocatore che è una scelta quasi perfetta per interpretare quelle che sono le richieste di Mr. Velázquez. È un giocatore che proviene dal Granada e quindi era sotto osservazione da parte nostra già da un po' di tempo. È un giocatore che è anche lui nell'ottica, nell'ambito della nazionale venezuelana. Dall'altro lato abbiamo Felipe Viseu, che è un giocatore un po' più giovane, 21 anni, brasiliano, proviene da un club prestigioso come il Flamengo e adesso è qui per misurarsi con un campionato che è più complicato evidentemente di quello brasiliano. È un giocatore forte, di grandi prospettive, che ha fatto vedere il suo valore non solo col Flamengo ma anche durante la partecipazione al campionato sudamericano del 2017 con la nazionale Under 20 e quindi lo riteniamo un giocatore che ha le qualità ed è un giocatore appunto forte sia per il presente che per il futuro. Quindi a entrambi i giocatori do il benvenuto all'Udinese Calcio e adesso lascerei la parola a loro cominciando da Darwin Macis per un saluto e poi spazio a voi per le vostre domande di rito. Grazie. Buongiorno a tutti. Sì, sono molto contento di essere qui e con entusiasmo. non vedo l'ora di mettermi al lavoro e di dimostrare tutti il mio valore e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Buongiorno a tutti, sono molto felice di stare qua con una grande squadra del calcio italiano, scusate il mio italiano e allora parlato in portoghese. Cominciamo con le domande. Gazzettino. Macis, buongiorno. Il fatto che l'allenatore ti conosceva già, ti aveva già visto all'opera, ti ha aiutato in questo tuo primo impatto con la nuova realtà con l'Udinese? Buongiorno. 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 Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti il mio valore e dimostrare che posso dare molto. Seconda domanda, il messaggero Veneto. Sempre a Macis, hai giocato praticamente sempre, ti aspettavi di giocare subito tutte queste partite dall'inizio o sei rimasto sorpreso anche tu un po'? No, io penso che qui non arriviamo con, pensando che siamo a essere titoli in l'equipo, abbiamo che dimostrarlo. E, bene, per me sento felice perché ho potuto dimostrare nei partiti di preparazione al corpo tecnico che, bene, potrei un cupo in la titolare. e seguirei dimostrandolo per continuare a essere titolare in tutti i partiti e a farlo della migliore maniera per dare allegria all'equipo e alla affezione. Sì, penso che nessuno arrivi qui e pensi già di essere titolare. Dobbiamo chiaramente dimostrare di meritarci questo posto e sono contento, per quanto mi riguarda, di aver dimostrato durante la preparazione di poter essere un titolare di questa squadra. E voglio ovviamente continuare così, voglio continuare a lavorare per poter essere sempre titolare in tutte le partite e per aiutare la squadra e i miei compagni. Odignos TV. Io ho una domanda per entrambi, parto da Macis. Volevo chiedere se ha visto le recenti statistiche, perché diversi portali web hanno sottolineato la percentuale del 100% dei dribbling riusciti, nessuno in Serie A ci ha riuscito. Grande pericolosità offensiva. Ha subito un impatto importante con il campionato di Serie A, volevo chiedere se ti aspettavi di avere subito un assetto così, di questo tipo, nel nostro campionato. E invece a Felipe Viseu, volevo chiedere, visto che il mister nell'ultima partita ha anche provato qualcosa dal punto di vista tattico diverso, con anche due giocatori offensivi davanti, se magari questo potrà aiutarti a entrare anche nelle rotazioni, se pensi che questa potrà essere una mossa importante per il tuo futuro. Bueno, non mi esperava questo impatto, però bueno, è mia maniera di giocare e, bueno, spero di fare una gran temporada e, bueno, essere un giocatore importante in l'equipo e, perché non andare più allà e essere uno dei giocatori di questa liga che è così forte. E, bueno, con la mia maniera di giocare, mi chiedere molto la attenzione per il tema che sono un giocatore molto versato, veloce, e, bueno, spero aprovechar mis qualità e, e, bueno, che l'equipo sepa che che tiene un giocatore di una caratteristica differente per la banda e la sepamo aprovechar, e, bueno, è, nada, lavorare e che le cose salgano bene nell'equipo. A dire la verità, non mi aspettavo un impatto così positivo, ma questo è il mio modo di giocare. Spero di poter fare una grande stagione, di essere un giocatore importante per la squadra e, perché no, essere una delle rivelazioni di questa Serie A, che è un campionato molto difficile. Sono consapevole del fatto che il mio modo di giocare possa, a volte, colpire. Sono un giocatore versatile, molto, molto rapido, e la squadra sa che sono un giocatore che ha questo tipo di qualità e di caratteristiche e può contare su di me. Quello che voglio fare è, ovviamente, continuare a lavorare duro per migliorarmi. Filippo? Sì, senza dubbio. Acredito che per un giocatore della mia posizione è sempre importante, né, poter aiutare l'equipo con i gols, ma, devido a difficoltà del futebol italiano, sappiamo che il più importante è sempre di aiutare la squadra, il team. Quindi, il professor sarà colpito il miglior giocatore che ha per giocare, sarà sempre tentare montare la miglior squadra, e, independe di chi sia giocando o non, siamo qui, stiamo luttando per aiutare sempre la Udinese, che è il più importante. Quindi, tutti i risultati devono essere in propria del nostro gruppo. Quindi, il più importante è questo, independe di chi sia giocando. ma, assim, è un motivo di felicità, né, poter stare qui. Come io sempre falo, è un giocatore nuovo, sta in un futebol nuovo, con tutto differente, ma sto molto felice di stare qui, poter aiutare la Udinese. Sì, senza dubbio, nella mia posizione, un giocatore nella mia posizione, ha il dovere di partecipare alle partite, aiutando la squadra con il gol. Ma, data la difficoltà del campionato, data la difficoltà di trovarci in una nuova squadra, sicuramente il compito in questo momento è quello di aiutare la squadra. Quindi, se il mister lo riterrà, può usare me o altri giocatori, comunque il mio compito è quello di aiutare l'Udinese, di essere qui per aiutare il gruppo, indipendentemente da poi chi gioca. Io sono comunque felice di essere qui, di essere qui e di aiutare l'Udinese. Questo è il compito di un giocatore nuovo, in un contesto nuovo, in un calcio nuovo. Quindi, appunto, sicuramente seguirò i consigli del mister. Tutudinese. Buongiorno per Felipe. Innanzitutto benvenuto. Quando ti vedremo giocare, perché sono sicuro che il tuo momento arriverà presto, cosa dobbiamo aspettarci da te? Cioè, come caratteristiche, tendi più a stare in area, ad essere un bomber d'area, o cerchi di giocare più tra le linee con magari degli inserimenti per altre quarti? Buongiorno, grazie. Quindi, costumo dire che, a squadra del Flamengo, io sempre giocare come un centroavante di area, ma anche già faccio partida, l'ho fatto quando mi torni profissional, già faccio partida come un giocatore di lato, già giocare un po' un po' nel meio del campo, come un secondo attacante, ma io mi accostumo a giocare dentro d'area, la mia posizione è di stare lì, sempre facendo un papel di parede, di pivò, aiutando l'equipe a segurare la bola nel attacco e potevano fare il guscio. Sì, nella mia squadra precedente, il Flamengo, giocavo come centroavanti di area, ma appunto ho già giocato come laterale, come centrale e come secondo attaccante. Quindi, diciamo che mi trovo bene a giocare all'interno dell'area e il mio compito è sicuramente quello di colpire la palla. Messaggero Veneto. Volevo chiedere due cose a Macis. Una, quanto ha trovato diverso l'amichevole dal campionato, cioè il salto a livello proprio di agonismo e poi volevo chiedere una cosa a tutti e due se c'è un giocatore al quale erano ragazzini, erano piccoli al quale si sono ispirati. La differenza, bene, in lo amistoso noi busciamo il livello è molto alto e questa competenza, questa liga se caratterizza per questo, per essere una liga molto competitiva, i risultati sono molto cerrato e tutte le squadre abbiamo che lavorare forte per mantenere la porteria in cero e da Piccolino sempre ho ammirato a Ronaldo al brasileño Sì, allora durante le partite amichevoli è chiaro che noi cerchiamo di migliorare gli schemi di mettere in pratica le idee dell'allenatore e di entrare in forma per il campionato quando inizia veramente il campionato ovviamente si lotta per i punti, quindi è chiaro che c'è molta più intensità, c'è molto più agonismo bisogna rimanere sempre concentrati perché il livello della Serie A è un livello molto alto è un campionato molto competitivo anche molto equilibrato dove non ti regala niente nessuno e quindi bisogna sempre lavorare e impegnarci per non subire gol per quanto riguarda il mio idolo da piccolo mi piaceva molto Ronaldo il brasiliano mio idolo desde criança è il Ronaldo Fenomeno e anche il grande Adriano Imperador che è un grande eccellente giocatore anche qui nel futebol italiano quindi sono i miei due idoli sono due giocatori che mi ispirano molto sì, da bambino anche io devo condividere appunto questa passione per Ronaldo il fenomeno ma anche Adriano Pirador appunto un altro mio idolo che ha giocato anche qui in Italia Gazzettino Filippo Evizeu c'è differenza notevole tra il calcio brasiliano e quello italiano ma secondo te in cosa si distingue soprattutto il calcio brasiliano da quello italiano? Filippo Evizeu lo che io vevo di molta differenza in poco tempo stando qui in Italia le difese hanno un lavoro molto grande quindi per noi giocatori di fronte è sempre con molta difficoltà per poter fare quella penetrazione con più facilità nel Brasil anche è difficile ma la parte tattica non è tanto intensa come la parte dei giocatori qui nel caso qui il futebol italiano le parti defensi come sempre vediamo i risultati sono molto prossimi è molto difficile vedere una goleata di 4-5 a 0 una volta o l'altra che succede questo nel futebol italiano nel Brasil può essere che sempre succedere con più come più volte quindi qui vediamo che il lavoro della zaga è molto più difficile quindi per noi giocatori di fronte è sempre più difficile per poter giocare la differenza principale che vedo tra il calcio brasiliano e quello italiano è sicuramente il lavoro della difesa che qui in Italia è molto impegnativo è molto grande è molto forte e noi che giochiamo davanti abbiamo veramente difficoltà a completare la penetrazione verso la porta in Brasile è diverso la parte tattica dei difensori non è così intensa per cui devo dire che qui marcano molto stretto è difficile quindi realizzare una goleada nelle partite italiane è una cosa che non succede così molto spesso e per noi appunto noi giocatori in avanti è molto difficile appunto poi sfidare questi difensori italiani così tattici e che marcano stretto per Felipe visto che si è parlato di idoli da queste parti un idolo assoluto è Zico ci hai parlato ti ha dato consigli volevo sapere se i consigli che ti ha dato ti sono serviti già da queste primissime settimane di allenamento e a Macis invece volevo chiedere visto che abbiamo già visto un gol niente male quella da Cerenà se è uno dei gol più belli segnati in carriera e se ce ne dobbiamo aspettare altri di questo livello Sem dúvidas o Zico è il mio grande idolo non solo per aver giocato nella squadra del Flamengo ma anche per aver giocato qui e i consigli che mi ha dato sì, sem dúvidas sono utili sono importanti è una persona di grande importanza nella mia vita per l'amore del giocatore che è per la persona che è e per essere prossimo del Rio del Flamengo di una squadra che cresci e che ho fatto molto tempo quindi i consigli che mi ha dato per aver guardato con molto carino non bisogna vincere tutti perché è una grande persona e ho certeza che sempre mi darà consigli continuiamo comunicando con un po' di difficoltà ma continuiamo si parlando e io agradeço molto a Zico per tutto che ha fatto per me per il carino che ha e per sempre avermi appoggiato Sì senz'altro Zico è uno dei miei idoli e come me ha giocato nel Flamengo e nell'Udinese i consigli che mi ha dato sono sicuramente utilissimi è una persona molto importante nella mia vita per la dimensione che lui ha come giocatore per la persona che è e per il fatto di essere vicino a me di essere stato vicino a me a Rio de Janeiro ovviamente e lui tutti i consigli che mi ha dato sicuramente mi ha chiesto di tenerli con me con grande affetto proprio per la grande persona che è continuiamo a comunicare ha un ruolo molto importante nella mia vita riusciamo a tenerci in contatto con Instagram magari adesso è un pochino più difficile però sicuramente è una persona che ritengo molto importante nella mia vita e che continuerò a sentire per questo lo ringrazio e lo saluto con grande affetto Messingero Veneto una domanda sì sicuro che contro il Benevento fu uno dei miei migliori golli e e e e e e e e sono un jugador che che a veces acostumbra a fare ese tipo di golli in Granada già pude hacer tre o quattro golli de esas magnitudes e bueno espero en esta nueva etapa en el Udinese regalarle más golli de esa forma lo aficionado si sicuramente quello contro il Benevento è stato uno dei gol più belli che abbia mai segnato ma sono un giocatore anche che è un po' abituato a segnare questo tipo di gol quando ero al Granada ne ho fatti tre o quattro altrettanto belli e spero che in questa mia nuova tappa possa segnare certamente ancora gol di questo tipo e rendere felici i tifosi è una domanda per tutti e due il campionato è cominciato con un pareggio a Parma e pareggiare fuori insomma è sempre un risultato positivo adesso però arriva la partita in casa e negli ultimi anni l'Udinese allo stadio Friuli ha fatto sempre tanta tanta fatica quanto sarebbe importante fare un risultato positivo domenica contro la Sampdoria per il morale per la fiducia per l'ambiente sì noi facciamo buoni planteamenti al corpo tecnico per affrontare cada partita e il Parma è una squadra che ci complicò i primi minuti e al final in il descanso pudimos parlarlo con más tranquillità e poi in il secondo tempo salimos con más intensità e al final pudimos darle la vuelta al resultado e conseguir un empate muy positivo ora qui a casa tocca una squadra molto complicada come è il Sampdoria e noi saliremo con la massima concentrazione e questa settimana trabajeremo molto forte per conseguire i primi tre punti in casa sì noi è chiaro che lavoriamo al meglio per preparare tutte le partite nella trasferta di Parma il Parma è partito molto bene ci ha reso le cose difficili nei primi minuti poi nell'intervallo abbiamo avuto l'opportunità di parlare tra di noi infatti nel secondo tempo ci abbiamo messo molta più intensità siamo riusciti a ribaltare il risultato e alla fine a conseguire un pareggio un pareggio positivo adesso ci aspetto una gara interna contro una squadra molto difficile da affrontare come la Sampdoria è chiaro che dobbiamo concentrarci per affrontare la gara al meglio durante questa settimana e lavoreremo per conquistare i primi tre punti della stagione vale risaltare come il mio compagnolo ha detto che il gioco contro il Parma sappiamo della grande importanza che fu salire con un punto di là con questo risultato positivo qui in casa sì come appunto ha detto il mio compagno vale la pena appunto ricordare che il punto a Parma è molto importante perché Parma è una grande squadra e vale la pena ricordare la forza la maturità con cui la squadra sta affrontando queste gare e il punto è sicuramente molto importante per il morale è molto significativo e quello che stiamo facendo questa settimana è lavorare appunto con il mister per affrontare la partita con la Sampdoria con la mentalità giusta facendo il lavoro migliore che possiamo fare ovviamente vogliamo ottenere un risultato positivo che ci aspettiamo tutti qui in casa bene grazie 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 a tutti perfetto grazie